la gara un po' più portata a diventare lotteria però poi bisogna vedere come possono cambiare vediamo dietro si vede il vento che comunque incide sulla nevicata adesso vedremo esattamente quelle che sono le condizioni questo è il profilo dell'anello da due chilometri da affrontare come vedete comunque può cambiare la situazione con questo vento diventa molto complicato soprattutto nei primi due poligoni con il discorso dell'azzeramento tifosi che hanno dato vita a veramente una grandissima festa e questi sono i distacchi con cui partono le atlete Witkova probabilmente proverà ad avvicinare le due tedesche che partiranno insieme e da dietro faranno lo stesso comunque Domraceva e Mekarainen mentre non parte Vabrinez come vediamo dall'elenco però sono tante con distacchi non così importanti ovviamente se il vento dovesse incidere potrebbe venire fuori una gara anche aperta a più protagoniste non parte nemmeno Hauser, nemmeno Ingele Anderson tra l'altro visto sulla TV tedesca che hanno fatto vedere altre non partenze Jordanova, Bollier e Stojanova hanno fatto vedere i protagonisti del calendario del Biathlon tra cui è stato anche coinvolto Lukas Ofer oltre a le varie Mekarainen, Ikhoff, Sukalova, Domraceva, Bjordalen, lo stesso Pfeiffer insomma Eddo come ha dimostrato ad Anter Selva in ogni caso tocca alla tedesca aprire le danze gara che parte con Dalmaier e Hildebrand da più lontano chiaramente Sukalova se la butta sulla precisione può provare a recuperare c'è anche il fattore recupero perché è la terza gara in tre giorni e non è facile un altro dei nomi che sicuramente bisogna spendere è quello della punta dell'iceberg della squadra francese cioè Mari Doren che ha disputato veramente un gran weekend di gara a cominciare dalla prestazione nella staffetta di venerdì e lei questo format lo gradisce abbastanza vanta un paio di podi in carriera e poi con lei c'è Valisemerenko c'è un gruppo di atleti lì davanti che veramente fa tanta paura Beccona che lei ha dimostrato di essere abbastanza adatta a questo format bisogna vedere che percentuali trova bisogna vedere cosa succede chiaramente in gara Scardino è un'altra che ha un distacco di quasi un minuto e può tornare sotto ovviamente Ringen è un'altra che potrebbe come Eikhoff soprattutto nelle prime serie recuperare posizioni poi bisogna vedere il loro rendimento in piedi la stessa Viroleinen che ha un pettorale ancora più alto 33 ha ottenuto il podi da Anterselva potrebbe recuperare posizioni però per la lotta che vale la vittoria e il piazzamento sul podio chiaramente direi che fino a Mekereinen tutto è possibile un po' più indietro ci deve essere la collaborazione delle altre tanto Bitkova sta già riducendo credo il gap nei confronti delle tedesche dietro si vede la sagoma di Domraceva in compagnia credo forse di Doren c'erano 4 secondi di differenza tra le due adesso lo capiremo meglio dall'immagine lo verificheremo da quello che ci proporrà la regia come vedete c'è davvero tanta neve e ci sono stati un po' di problemi come vi dicevo segnalati dal commentatore cieco Michal che tra l'altro sottolinea come c'è un clima in squadra molto positivo tutti sorridono perché hanno accolto in maniera molto gradita al femminile la responsabilità affidata all'ex biatleta Zenech Vitek che è responsabile della squadra femminile e ha messo d'accordo tutti su Calova aveva qualche problema con Sicola che ha seguito anche la stessa Bitkova negli anni precedenti e quindi insomma questo ha sicuramente aiutato e poi un'altra cosa che ha reso un po' più popolare il biatron o comunque un altro degli effetti che ha provocato il biatron possiamo forse più giustamente dire così e che come avviene in Germania si crea poi del diciamo così merchandising o comunque un gioco in scatola intanto Doren non ha raggiunto Domlacciova che prova a tenere il passo di Mekeren Nendoren che ha raccolto anche Valisemelenco che mi pare non voglia forzare troppo il ritmo hanno in sostanza lanciato sul mercato un gioco da tavolo un gioco in scatola del biatron si chiama biatronmania mi pare e sta avendo parecchio successo ne hanno venduti parecchi intanto abbiamo visto la grafica che ci dice non ci sono penalità in funzione della partenza che viene sulla base dell'ordine d'arrivo della sprint bisogna rispettare un range diciamo di tempo entro il quale bisogna partire non bisogna anticipare la partenza vedete che ci sono un po' di forate di vento Vitkova è riuscita ad agganciare il trenino delle tedesche dietro si vede anche Dara Domratiova che si sta avvicinando hanno cercato di non forzare di andare gradualmente dal Mayra Hildebrand Hildebrand che ha lasciato davanti la più giovane vincitrice in Coppa del Mondo in attività con la vittoria tenuta proprio ieri comunque il gruppone va a diventare più numeroso Valisemerenko non ha tenuto il passo di Mecherene nella differenza di Doren Mecherene si sta portando su Domratiova che un minimo si è rilassata una volta che ha visto che stava avvicinando ovviamente Vitkova ci avviciniamo quindi al primo poligono ormai mancano 500 metri qui vediamo la verifica adesso vedremo anche cosa stanno facendo le due italiane come distacco questo punto della gara sono già arrivati buoni risultati dietro forse si vede proprio la Vittozia eccola là hanno fatto già buone gare nella mista e nella sprint tutto però dipende dal poligono anche questo tipo di situazione in pista rende comunque la gara abbastanza dura perché c'è neve fresca che appesantisce sicuramente le gambe dell'atleta al terzo giorno consecutivo di gare questo è un altro aspetto da tenere in considerazione le prime tre entrano al poligono con un clima veramente super festoso a nove miesto in Moravia allora vediamo la situazione più dietro Vittozia che è 28esima a 1.11 quindi è stata risucchiata da quel gruppone di attenti che partiva insieme a lei San Filippo è 32esima a 1.26 e ci sarà del traffico comunque perché sono veramente in tante tutte molto vicine come distacchi di tempo nella seconda parte di gara diciamo sono praticamente in 7 al poligono racchiusi in 8 secondi come tempo di ingresso alla prima serie Vento sembra non incidere più di tanto e questo potrebbe essere un vantaggio se poi le condizioni dovessero cambiare per le altre che inseguono adesso arriva un po' di vento e infatti arrivano anche gli errori le tedesche possono approfittarne Idebrand non sbaglia Dalmaier è stata cauta questa volta e anche lei però non sbaglia 1 per Doren 2 per Domraçova e anche per Macherinen sbaglia anche Valisemerenko 1 per Vitkova quindi le tedesche hanno tratto grandi benefici da questo primo poligono errore di big di Coppa del Mondo si trovano un po' staccate dalle tedesche le altre sbagliano meno invece più indietro sbagliato Abramova poi ci sono stati altri errori ma per esempio Beckon molto bene le tedesche hanno un margine di 25 secondi su Vitkova e su Doren Semerenko a 40 secondi Beckon si è inserita al sesto posto e brava Lisa Vitozzi a trovare lo zero come anche Ekov come Ringen come mi dicevo potevano recuperare come anche Sukalova ha recuperato terreno è già in nonna posizione Sukalova attenzione gara che si fa davvero molto interessante Scardino e Inza anche loro si sono inserite più avanti sbaglia San Filippo sul terzo bersaglio errore anche di Shumilova non sbagliano Jurlova e Gerikova eccola qua ripartire San Filippo con un errore ha commesso anche l'errore sull'ultimo sono due errori per San Filippo ripeto però non stava benissimo una forma influenzale l'ha colpita in questi giorni sicuramente l'ha un po' debilitata l'ha un po' in 18 posizione domraccio va e dodicesimo uno zero sei mecherenene quindicesimo uno zero sette si ha den leichten wind von links nach rechts aber hat das alles im griff bis jetzt lauter sichere treffer und auch der letzte ganz hervorragend und man sieht einfach am ergebnis ja und dadurch der vorsprung der beiden also franziska hildebrandt vorneweg 6,3 sekunden dahinter dalmeier dann veronika witzko war 31,8 sekunden also eine gute halbe minute schon zurück und dann reihen sie sich da alle an gabriela sukalova auf neun gesprungen nicht auf diesem ersten tableau daja domracceva und tajsa meckereinen meckereinen 15 domracceva zwölfte da haben wir sie auf dem zweiten tableau franziska hildebrandt war 6,1 6,3 6,3 sekunden vor laura dalmeier der vorsprung ist in etwa geblieben ein paar zwei sekunden 2,3 sekunden sind es mehr geworden interessant jetzt der rückstand der anderen 31,8 sekunden von witkova und 33,8 aber 33,1 also das ist genau geblieben die holen auch nix auf und tina bachmann hat mittlerweile geschossen auch sie hat alle fünf scheiben getroffen also gute schießleistungen der deutschen damen und das ist umso mehr beeindruckend gerade auch bei laura dalmeier ma il ritiro sta andando molto bene perché abbiamo avuto diversi condizioni c'era un po di solo ma c'erano anche giorni con un po di vento e questo vento ci andeva andava benissimo perché così potevamo allenarci anche con un po di vento al poligono che non è male di provare anche quello e se no qua è bellissimo anche la pista c'è mille chilometri per sciare e va tutto bene mille chilometri sono tanti ovviamente non vengono fatti così tanti chilometri in questo raduno ma soprattutto trovate anche modo di provare le condizioni che saranno quelle dei mondiali cioè le gare saranno spesso in notturna praticamente si a congelati spesso c'è vento e ci va benissimo che qua ogni tanto c'era anche il primo giorno era un po di troppo ma poi erano due giorni dove c'era un po di vento che potevamo reagire dove potevamo lavorare su e questo è importante per allenarci perché quando non c'è vento non puoi allenarti con il vento una cosa più importante per te personalmente è quella di aver trovato una buona condizione fisica lungo tutto l'inverno non hai avuto grossi intoppi anche nella preparazione e questo non ti era accaduto negli ultimi stagioni? no è importante sempre durante la stagione di rimanere sane questo fino adesso meno male che mi sono sempre sentita bene e sono contenta che ero così contante durante la stagione speriamo che va fino alla fine ti chiedo anche ovviamente è arrivato il primo podio in carriera c'eri già andata vicino alle olimpiadi di Sochi dove è arrivata poi quella seconda medaglia per te dopo quella dei mondiali proprio qui a Novemiesto dove stiamo seguendo la gara che c'è tanto vento direi che quello è stato un momento importante che ti dà anche fiducia per poi le gare importanti di questa stagione sì sono molto contenta che il lavoro degli anni scorsi ha portato i suoi frutti stiamo sempre continuando a continuare al lavoro per me quello è importantissimo e speriamo che possiamo raccogliere ancora qualche frutto di quello che sta arrivando beh ovviamente quello che si auguro tutti i tifosi italiani gli appassionati di Beatron che stanno crescendo stanno aumentando parlavo con Alex Inders che mi diceva che dopo il tuo podio la pagina tua insomma il sito ha avuto tantissime richieste proprio da parte di tanti tifosi adesso seguiamo questo poligono però se hai pazienza ancora un attimo lo guardiamo magari insieme poi ti chiedo anche un commento di queste gare di Novemiesto però insomma hai avuto una testimonianza anche tu di quanto sia sempre più interessante il Beatron in Italia no? sì sì soprattutto negli ultimi anni erano molto più seguiti dalla Germania ma adesso con i nostri risultati vediamo che pian pianino arrivano anche tifosi italiani quello ci fa molto piacere tanto grandissimo vento adesso nella seconda serie qua veramente bisogna avere delle qualità non indifferenti che ha dimostrato Dalmaier soprattutto Dante Selva ha preso i primi due Hildebrand che forse davvero galvanizzata dal podio vuole provare qualcosa di ancora più importante è trovato anche il quarto sbaglia Dalmaier in apertura lo zero di Dalmaier a terra anche nella seconda serie vediamo le altre poi chiederò a Karin Oberhofer di spiegarci quali sono le difficoltà di arrivare con una serie che cambia proprio come condizioni con questo vento adesso si è calmato il vento però sbaglia anche Vitkova errore di Doren no non di Doren prende due anche il terzo Doren arrivano anche Domraçova su Kalova e McEranen se vuoi aggiungere qualcosa vai Karin il problema c'è sempre quando il vento si sta sempre cambiando quando è stabile che va da una direzione puoi reagire con le tacche ma quando cambia diventa una cosa difficilissima errore per Vali Semerenko, Doren che ha 30 secondi di distanza da Hildebrand da dietro però si sbaglia meno proprio perché adesso il vento non ha avuto delle grosse variazioni Domraçova McEranen, Sukalova, Scardino, Becon senza errori e anche Glazirina può provarci con lo zero come Toffalvi quindi qui chi ha pagato tanto è Dalmaier con quel errore mentre le altre sono state molto più precise adesso di nuovo però sembrano condizioni non semplici che affrontano le norvegesi Ekoff infatti ha sbagliato, meno errori rispetto alla prima serie in ogni caso sbaglia anche Ringen e adesso ci prova anche Elisa Vittozzi oltretutto è difficile anche Karin le condizioni della pista con tanta neve che cade tra un giorno con l'altro quando hai tre gare in tre giorni diventa difficile Sì, tre gare di fila sono sempre duri anche durante la stagione sempre tre gare la settimana alla fine lo senti tantissimo e questa neve che sta cadendo adesso in pista penso che rallenta tantissimo gli sci, lo senti sciando Una cosa che è stata molto importante nella stagione, nelle ultime stagioni è veramente trovare un gruppo che si sta sempre più compattando tra gli atleti, tra i tecnici e tra gli skimern che stanno dando un grosso contributo alla squadra italiana perché anche il loro lavoro è prezioso anche il lavoro dei tecnici chiaramente Sì, 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 da solo noi non facciamo nulla abbiamo proprio bisogno di tecnici, di skimern, di tutto devi avere una squadra forte, bravissima tutti che ci stiamo aiutando questo è importante, molto importante perché da solo nessuno va da nessuna parte Ha trovato condizioni difficili Elisa Vittozzi ha commesso un paio di errori adesso aspettiamo anche San Filippo che purtroppo apre male, sono condizioni difficili la nevicata sta aumentando e quindi le difficoltà potranno solo che aumentare ti volevo chiedere prima di salutarti, lasciarti seguire poi la gara Karin, il poligono di Contiolati quali sono le problematiche della gara dei mondiali in Finlandia? Adesso non lo so ancora, vedremo poi quando siamo là e com'è il tempo bisogna sempre adattarsi, dare il meglio e speriamo che non ci sono troppo follate di vento perché là le caratteristiche sono un po' quelle che è difficile non trovare del vento e soprattutto può arrivare e diminuire è quello il problema di Contiolati? Sì, avevamo giorni, gli ultimi anni anche gare dove non c'era vento ma per esempio l'anno scorso è arrivato alla fine il vento e lì era poi proprio difficile fare ancora una bella sera, un bel risultato Quando è che vi sposterete poi a Oslo? Com'è l'organizzazione dei prossimi giorni per voi? Noi domani andiamo a Oslo e poi continuiamo lì l'allenamento e poi lì facciamo anche poi l'idale Bene, allora in bocca al lupo Karin Oberhofer a te e a tutte le tue compagnie di squadra e vi vediamo di nuovo la prossima settimana in gara e anche su Eurosport Grazie Karin Grazie a voi, buon divertimento ancora vedendo la gara Ciao ciao Grazie Karin Insomma siccome non avevamo ancora avuto modo di sentire Karin Oberhofer in queste settimane chiaramente con il limite del possibile quando c'è la possibilità vediamo anche di ospitare gli atleti gli atleti di Coppa del Mondo adesso però torniamo sulla gara con Hildebrand che va in avance scoperta diciamo così a questi 28 secondi di vantaggio dietro c'è Dombraceva che ha guadagnato ancora qualcosa Dombraceva in terza posizione in compagnia di Dalmaier è una gara molto dura questa soprattutto perché è la terza in tre giorni condizioni difficili di vento bisogna essere molto lucidi questo può fare davvero la differenza soprattutto quando si affronta il poligono chi ha recuperato tanto è Sukalova che è in ottava posizione il pettorale 21 e anche Toffalvi se si ha una finestra di vento favorevole è stabile bisogna provare ad approfittarne chiaramente non è semplice qui intanto vediamo Doren che è in seconda posizione dietro c'è il gruppo degli inseguitrici con le due cieche una dietro l'altra c'è anche McEreinen in questo gruppo sono tutte insieme 26 secondi quindi ha rosicchiato un secondo e mezzo Franziska Hildebrand su Marie Doren che ha perso tanto contatto è stata dopo la prima serie d'Ankli come anche Varsen si è fatta superare da diverse attete ma d'altronde è giovane comunque ha le prime esperienze per lei importanti e vediamo il distacco del gruppone che è di 43 e mezzo quindi hanno guadagnato circa 4 secondi e mezzo chiaramente sono poi McEreinen e Domraccio quelle che guadagnano di più siamo tornati nello stadio adesso oltretutto con queste condizioni molto difficili si vedeva la formazione di nuvole molto cariche grigie sullo sfondo è arrivata questa questa situazione meteo che sta dando molti problemi proprio nelle serie in piedi dove le difficoltà chiaramente aumentano il vento come diceva Massimiliano Avesi ieri può entrare da ogni lato in questo poligono oltretutto con questa nevicata davvero psicologicamente non è per niente semplice per le atlete si sapeva che le condizioni oggi sarebbero state molto difficili ma queste sono quasi proibitive vediamo Hildebrand come se la cava il primo lo sbaglia adesso è dura per tutti io non so se si può davvero portare a casa questa gara se continua a essere così il vento è fortissimo in questo momento adesso è calato un attimo arriva il secondo errore di Hildebrand terzo errore qua è veramente una lotteria ha preso il quarto Hildebrand adesso si è calmato il vento potrebbe essere un vantaggio per le altre anche se da questa immagine è difficile crederlo certo che dopo Anterselva era quasi incredibile pensare di trovare un'altra situazione del genere Doren il primo lo trova però spaglia sul secondo spaglia anche Dalmaier doppio per Doren McErennan ha preso i primi due anche Inze su Calova c'è il terzo di McErennan su Calova ne ha presi quattro come anche McErennan che sbaglia l'ultimo Dalmaier due errori uno da Omraccio va su Calova senza errori si entusiasma il pubblico di casa anche Becon non sbaglia gara pazzesca sbagliano chiaramente tutte quante e su Calova però zitta zitta con il pettorale 21 lancia la sfida alle altre quando manca l'ultimo poligono Becon a 3 secondi e 6 Vali Semerenko due errori 3 per Scardino esce Domraccio dal giro di penalità a 19 secondi e 3 attenzione che qua vediamo come sarà il duello tra le due di Coppa del Mondo perché anche McErennan esce dal giro di penalità hanno la possibilità ancora di vincerla questa gara chiaro che su Calova può gestire al meglio la percorrenza nell'ultimo giro Hildebrand è scivolata in sesta posizione con i tre errori commessi Varsen senza errori grande dimostrazione di carattere oltre che di qualità Scardino che ha le condizioni difficili non dico che ci è abituata ma si trova bene Vitko va in ottava piazza e le tedesche sono in tante lì comunque nelle prime posizioni al di là degli errori commessi da Dalmaier e Hildebrand ma oggi sbagliano chiaramente tutte Varsen è decima Toffalbi undicesima Toffalbi pettorale 24 la classifica dice su Calova e Becon sono vicine ed è possibile che percorreranno l'ultimo giro insieme poi Dombraccio a 19 secondi dovrebbe avvicinarle considerevolmente McErennan a 25 secondi Hildebrand a 37 Dalmaier è la prima del gruppo che insegue e che è abbastanza folto e fitto quasi quanto la neve di Nove Miesto in realtà su Calova ha margine sulla francese condizioni davvero molto molto difficili e gli italiani sono ancora lontane arrivando adesso vittorio del poligono San Filippo ne ha svegliati 4 nella seconda serie e questa è una gara di eliminazione e di sopravvivenza almeno dal punto di vista della prestazione del poligono ricordo che su Calova e Becon hanno lo zero cioè non hanno ancora sbagliato niente nonostante questa situazione Dombraccio intanto chiaramente ha un altro passo dietro si intravede anche la sagoma di McErennan sta facendo fatica Becon in questo giro che comunque non deve forzare chissà se resiste il trucco waterproof di su Calova ne ha parlato in questi giorni usa quello di una azienda cecca quindi c'è anche un discorso diciamo così di promozione da questo punto di vista commerciale ecco mettiamola così Dombraccio ha raggiunto Becon che ha perso molto mentre su Calova si è difesa da Dombraccio e anche da McErennan che non guadagna praticamente su di lei guadagna poco anche Dombraccio in realtà un paio di secondi due secondi e mezzo la stessa Hildebrand sta perdendo è fondamentale l'ultimo poligono adesso da come cade la neve sembra esserci un po' meno vento però siamo nel bosco dove chiaramente c'è un po' più di protezione degli alberi bisognerà vedere al poligono com'è la situazione certo che è un'altra di quelle gare limite c'è stato un modo di fare rifornimento per Gabriele su Calova se dovesse vincere questa gara su Calova non so cosa succede un pubblico così caliente viene da dire quello della Repubblica Ceca avrebbe un effetto dirompente anche dal punto di vista mediatico ulteriore perché l'ha già avuto chiaramente con i risultati delle ultime stagioni firmati da su Calova ma in generale da tutto il movimento molto appesantita Beccon l'allenatore in palla la telecamera McArenen sta arrivando sulla francese qua davvero sono tutte comunque molto provate dalla situazione complicata offerta dal meteo e ha tutte queste gare in serie hanno rosicchiato qualcosa su Calova Domraccio e McArenen Hildebrand aveva una quarantina di secondi di ritardo ha perso forse qualcosina ma poco comunque un secondo da su Calova nell'ultimo tratto guarda quanta neve comunque si sta depositando in pista per la gara maschile si fa ancora più dura perché non è che si può tanto intervenire sulla pista i volontari dell'organizzazione Novemiesto hanno cercato di dare un grande contributo per rendere le tribune praticabili anche liberare un po' di neve dai parcheggi ma adesso chiaramente la situazione diventerà sempre più pesante e più difficile tra l'altro ci sono alcune notizie interessanti dal fronte maschile soprattutto che riguardano Bjordalen poi ne parleremo nel prossimo collegamento in diretta con Novemiesto sempre che ci sia una gara perché davvero se dovesse continuare così con tutta questa neve la gara si fa magari ma in condizioni davvero limite ultimo poligono intanto per le donne con Succarlova che entra da sola eccolo qua Vitek inquadrato non c'è vento in questo momento non è semplice la visibilità probabilmente perché sta veramente fioccando parecchio Succarlova ha le caratteristiche giuste per risolvere il problema che gli si presenta all'ultimo poligono tanto arriva Dombraccio ma anche guardate gli addetti come sgombrano la neve dalle piazzone di tiro a premale Succarlova c'è un altro errore Succarlova è fuori gioco probabilmente è poligono difficile vediamo le altre se prende il prossimo Dombraccio è sicuramente sul podio spaglia l'ultimo Dombraccio McErainen bene sui primi due errore di Beckon attenzione McErainen vento che si intensifica forse sbaglia l'ultimo a questo punto Dombraccio la gara la può vincere davanti a McErainen direi sbaglia Vitkova probabilmente tanto c'è un problema per la Vitkova che alza il braccio forse c'è un problema sulla sua sagoma non si è capito bene forse ha sparato sulla sagoma di Hildebrand perché non abbiamo i risultati in grafica di Hildebrand Dalmaier Dalmaier 5 su 5 come anche Inz due errori per Doren Sukalova è dietro a McErainen di poco ma farà fatica anche a stare davanti a Dalmaier probabilmente credo che possa avere di più Dalmaier intanto chiaramente con tutto il traffico che c'è non può essere aiutata Vitkova non so esattamente qual è il problema adesso forse può puntare di nuovo ai bersagli se si aveva sbagliato la sagoma Vitkova credo che avesse sbagliato sagoma chiaramente adesso deve inserire un colpo perché ne aveva sbagliato uno e poi si è interrotta e quindi un giro di penalità per Vitkova che ha perso tantissimo tempo adesso cercheremo poi di capire meglio a fine gara quello che è successo a Vitkova ma dovrebbe essere capitata una situazione del genere intanto non vi avevo dato il terzo poligono delle italiane un errore per Vittozzi come anche per San Filippo che navigano tra la 47esima e la 48esima posizione nonostante quattro errori si conferma questo trend micidiale in questa stagione di Coppa del Mondo che vede vincitrice o Domnaceva o Mekerenen in tutte le gare che non sono sprint e questa è però la terza gara di fila se non vado errato nelle prove in seguimento che vince Domnaceva è l'ennesima gara in cui batte Mekerenen da gennaio il trend è chiaro ovviamente Mekerenen arriverà seconda e quindi la differenza in termini di punti sarà di 6 se si considerano gli scarti adesso sono divise da 3 punti il petrole giallo rosso rimarrà Mekerenen che non è distante da Domnaceva però comunque sia dove è finita Sukalova Sukalova è dietro c'è nel mezzo anche adesso vediamo perché questa è una doppiata poi Mekerenen in seconda posizione il distacco che diminuisce però a margine Domnaceva per non avere problemi Dalmaier è in terza posizione si sta abituando al podio la ragazzina e Ings anche lei è andata a scavalcare Sukalova che fa davvero molta fatica Sukalova non è in condizioni adeguate insomma ma l'abbiamo già spiegato il motivo ormai insomma non è questa una novità è Toffalm che ha fatto una gran gara perché da top ten cosa che non le capitava da parecchio tempo con due errori commessi nella terza serie evidentemente ha trovato le condizioni giuste per esprimersi ci sono tantissimi errori inevitabilmente come può accadere in questa gara Hildebrand addirittura ne ha sbagliati cinque quindi adesso non so poi se c'è una situazione che l'ha condizionata rispetto a quello che è successo a Vitkova sta di fatto che gli vengono accreditati cinque errori nella ultima serie tre ne ha commessi nella prima serie in piedi si stava giocando qualcosa di importante dopo le prime due serie nel terzo giro era da sola intanto attenzione che McPennen ci sta provando ci sta provando McPennen sembra un po' tirata Dombracciova mancano 500 metri alla fine a nove secondi McPennen non ce la può fare ma anche Dalmaier molto pimpante nell'ultimo giro aveva 20 secondi guadagno su Dombracciova questa ragazzina è tremenda nell'ultimo giro anche una sciata abbastanza leggera rispetto alle altre più di forza se vogliamo Dombracciova adesso vediamo il finale perché è stata davvero una gara durissima ormai Dombracciova però è entrata nel rettilineo ha mantenuto quel vantaggio necessario per chiudere e portare a casa un'altra vittoria è scesa dal podio ieri ma comunque sia dalla mass di Oberoff è stata devastante Dombracciova sempre nelle primissime posizioni Dombracciova qui si avvicina ulteriormente a McErainen che ha dato tutto nel finale e dietro alle due guarda caso ancora sul podio insieme in una gara che non sia sprint arriva Dalmaier che festeggia il secondo podio in due gare e ancora una volta il destino vuole un'altra tedesca a ridosso del podio ma che comunque è in proprio in gioia totale Inz la miglior gara della carriera ovviamente su Calova non ce l'ha fatta quarta due errori per lei pesanti nell'ultima serie ottima gara di Glazerina Glazerina che ha dimostro di essere comunque in palla sugli sci e poi arrivano le altre Gima anche lei ha fatto una buona gara ma Toffalvi davvero sorprendente nelle 10 e anche Kriuko nelle 10 forse sì sì è nelle 10 arriva adesso Kummer le italiane al quarto poligono un errore a testa sono in quarantatresima e quarantquattresima posizione appena fuori dalla zona punti Hildebrand molto affaticata soprattutto dai tanti giri di penalità ha commesso otto errori arriva a quattordicesima però vedete ce l'ha asterisco adesso bisogna capire la situazione che secondo me è stata innescata da Vitkova dall'altronde con quel tipo di meteo insomma errori di questo genere si possono commettere certo commetterlo nell'ultima serie perché forse quello che avrebbe dovuto fare Hildebrand anche lei fermarsi poi gli sarebbe chiaramente stato valutato il tempo come poi è successo proprio a Vitkova credo in una gara una gara in una gara a questo punto sagoma che non corrispondeva al numero di piazzola Vitkova dopo il primo colpo se ne accorta ha alzato la mano per far sì che resettassero la sua sagoma che è quella su cui evidentemente è possibile aver sparato Hildebrand quindi a questo punto c'è da dire che per Hildebrand la classifica dovrebbe cambiare sensibilmente c'era l'asterisco adesso non non lo vedo più comunque sia verificheremo quello che effettivamente sarà a breve arriveranno anche Piccato intanto per Dombracciova arriva la nonna vittoria in questo format di gara che è un po' quello che preferisce insieme alla gara con partenza in linea sale a 26 vittorie mancano due per raggiungere Toraberger Sanfilippo 41esima vicina intanto vedete appunto il tempo che è stato aumentato penalizzato dei 6 minuti per il fatto di aver proprio sbagliato sagoma molto probabilmente quindi è stata Hildebrand che ha condizionato Vittkova e non viceversa è stata anche sfortunata Vittkova però a questo punto dovrebbe anche cambiare il tempo di Vittkova in linea teorica Vittkova che al momento si l'hanno già aggiustato credo le viene dato l'undicesimo tempo a Vittkova se vedo bene secondo me dovrebbero se ho capito bene sono 53 secondi che le hanno tolto dal tempo ma io credo che forse poteva essere anche di più il tempo che le ha perso al poligono però hanno le immagini a disposizione le avranno verificate la mia era la sensazione che forse è passato più tempo però un minuto sì comunque adesso qua non compare ecco vedete Vittkova che è a undicesima posizione e non diciassettesima quella che occupava arrivando fisicamente al traguardo quindi diciamo che la ricostruzione è corretta è stata Ildebrand che ha sparato sulla piazzola sì sì perché rivedendo le immagini sulla tv tedesca in sostanza i bersagli venivano colpiti da da Ildebrand sulla sagoma di Vittkova e questo è quello che è successo intanto vediamo anche le azzurre peccato non essere riusciti ad andare ancora a zona punti però resta il risultato molto buono della sprint per Vittozzi in particolare di Vitto di Vitto di Vitto di Vitto